Che tocca? C'è adesso? Locate e Venegono Inferiore. Grazie mille. Due a zero. Tre? Ah, ha toccato. Quanto? Tre a uno. Quattro a uno. Quattro a due. Quattro a due. Cinque due. Sei due. Sette due. Otto a due. Si è fermata. Nove a due. Nove a tre. Dieci a tre. Dieci a tre. Dieci a tre. No, dieci a tre era. Sì, dieci a tre. No, dieci a tre. Dieci a tre. Dieci a tre. Undici, adesso c'è. Sì, undici tre. Partita. Cambio campo. Uno. Uno. A zero. Uno pari. Si rifà? Due a due. Due pari. tre. Tre a due. Tre a due. Tre pari. Tre pari. Sette tre. Sette. E' ranette? Quindi? Sette. Se, tre. Allora si rifà? Sette. Sette. Tre. Adesso. Tre. 8 3 8 4 8 5 8 5 9 5 10 5 11 5 partita Fini Chi tocca?